E' impossibile vivere qui. Ci sono i cavi elettrici. Sento già un tumore che sta crescendo. A nessuno verrà un tumore. Mamma, c'è la cucina! Oh, davvero bene! Voglio vedere la mia camera! Va piano! Il proprietario è molto intenzionato a vendere. Vuoi vedere un trucco? Che tipo di trucco? Mamma, ci piace questa casa! Sembra che le cose vadano un po' meglio. Sta arrivando una tempesta. Non fare il piagnucolone, Griffin. Non ho paura. Come arriverai qui? Con chi stai parlando? Maddie! Maddie! Maddie Son! Non sapevamo che fare. Avete fatto bene a venire da noi. Non sembra si tratti di una classica infestazione. Non ho mai visto nulla del genere. È un poltergeist nuovo, molto più potente. Maddie! Devi ritornare da noi ora, tesoro! Sbutate la mente. Sanno cosa vi spaventa. Libera questa famiglia! Lascia questa casa! Qualcosa non va, mamma. Ciao a tutti. Mila Jovovich nel 2015 non farà solo l'ultimo capitolo di Resident Evil, ma entrerà anche nel cast di In the Lost Lands, film basato su alcuni racconti di George R.R. Martin, l'autore del Trono di Spade. Accanto a lei vedremo Justin Chatwin, uno dei volti più amati della serie TV Shameless. La Jovovich interpreterà una donna con poteri soprannaturali, costretta a percorrere le terre perdute per ottenere la capacità di tramutarsi in lupo. Si tratta di una coproduzione tra Canada e Germania, dove le riprese cominceranno alla fine dell'anno. Grazie per averci seguito. Scaricate la nostra app e a presto.